Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati qui sul mio canale YouTube. Lo spot è sempre lo stesso, la copertina video dei miei ultimi video è sempre la stessa, l'illuminazione è sempre la stessa, scarsa, un po' così così, però insomma ragazzi siamo qui con i mezzi che abbiamo per parlare ancora di applicazioni e per portare un nuovo episodio delle top up. Oggi ragazzi vi mostro 10 applicazioni da non perdere, da provare almeno una volta sul vostro iPhone. Trovate i link qui sotto in descrizione per il download. Al termine di questo video, al termine della prova che farete di queste applicazioni, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate ragazzi, è molto importante per crescere insieme, per far crescere questo canale e questi contenuti. Iscrivetevi anche se non l'aveste ancora fatto cliccando sul bottone qui in basso, è gratuito, veloce, rapido, in dolore e mi fate un grande grande favore per supportarmi. Basta ragazzi, ho parlato troppo, più di un minuto, partiamo subito con 10 applicazioni imperdibili per il vostro iPhone. Bene ragazzi, partiamo subito con la prima applicazione che si chiama Notepad. Come suggerisce il nome stesso, vi permette di prendere appunti in maniera molto semplice e soprattutto efficace, efficiente. Si compone di una prima pagina in cui c'è una schermata con i vari blocchi di appunti, quindi per esempio ho fatto delle prove in precedenza, prima di registrare il video, scuola, vado ad inserire delle note rapide, dei post-it, possiamo chiamarli, in cui possiamo inserire tutto quello che vogliamo relativamente per esempio alle singole materie, inglese, storia, possiamo colorare le note per darvi maggiore risalto, possiamo inserire delle note registrando la nostra voce direttamente, oppure aggiungendo un video, aggiungendo una foto, aggiungendo uno sketch, una sorta di disegno, così a mano per andare a descrivere le nostre idee in maniera molto diretta, veloce, se non abbiamo soprattutto tempo. Ragazzi l'app è veramente fatta bene, funziona molto bene, ci sono anche dei widget per andare a inserire delle note rapide di questo genere, ad esempio la lista della spesa in cui noi andiamo ad inserire tutto quello che dobbiamo acquistare, andiamo a sfuntarli man mano, e poi soprattutto possiamo inserire un promemoria che ci permette di andarci a ricordare ciò che dobbiamo fare. Ragazzi ve la consiglio, provatela perché è veramente ben fatta. La seconda app che vi mostro oggi ragazzi si chiama Budget, è molto semplice, sia il nome che la sua struttura, davvero lineare, efficace al 100%, si compone di una schermata principale in cui abbiamo un risponso di quelli che sono le nostre spese, ovvero il nostro saldo tra spese ed entrate, per avere una panoramica su quelli che sono i nostri risparmi, con gli obiettivi che ci possiamo prefissare di volta in volta. Abbiamo delle entrate extra che per esempio possiamo programmare, anche delle spese che dobbiamo affrontare, e qui possiamo decidere di pianificare una di queste spese andando effettivamente a proporre un tot di soldi, ad esempio 50 euro, 100 euro, su quell'obiettivo e così andarla a realizzare risparmiando il più possibile. Poi possiamo chiaramente impostare una spesa, ad esempio oggi a pranzo ho speso 50 euro al ristorante, lo impostiamo e il nostro saldo ovviamente subirà una modifica. Il nostro obiettivo è ovviamente che questo numero sia sempre in positivo. Devo dire ragazzi che anche questa applicazione è davvero efficace al 100%, anche con la versione gratuita potete fare tantissime cose. Andiamo a scoprire ragazzi la terza applicazione che si chiama Tripsy, è un'app molto molto utile, soprattutto per chi ama viaggiare come il sottoscritto, ma penso che molti di voi sia la stessa cosa, e volete programmare un viaggio, non andare diciamo così a sorpresa, a tentativo, andando a fortuna giorno per giorno, ma programmare facendo degli itinerari ben definiti, e avere tutto un programma di viaggio impostato tramite questa app, che è veramente ben fatta da questo punto di vista, e soprattutto molto utile per avere una pianificazione, oltre che su carta, in questo caso su digitale, sul nostro smartphone, anche a livello mentale. Ovviamente possiamo gestire il nostro volo, programmiamo ad esempio, ho fatto questa prova, un viaggio a Budapest tra 35 giorni, dal 16 al 20 aprile, programmiamo l'arrivo in alloggio il 16 aprile, qui possiamo decidere anche di inserire il codice di prenotazione, il check-in, il check-out, la mappa, quindi dove si va a trovare il nostro albergo, possiamo chiaramente inserire dei ristoranti che vogliamo visitare, che vogliamo prenotare per determinati giorni, dei musei allo stesso modo che vogliamo frequentare, e quindi andare a inserire i biglietti che abbiamo già ad esempio acquistato, o i tour che vogliamo fare, in questo caso alla bellissima isola Margherita di Budapest, io ci sono già stato, però insomma vi ho fatto un prospetto di quello che può essere un esempio di itinerario. E inoltre possiamo aggiungere delle nuove attività, qualora queste ci vengono in mente da fare prima di raggiungere la città. Ragazzi, veramente ben fatta anche da questo punto di vista, sia a livello di produttività, sia a livello di svago, chiaramente per quello che è l'obiettivo, ovvero visitare la città nel modo migliore possibile, e non spiegare ore preziose di viaggio. Andiamo a scoprire la quarta applicazione, che si chiama Sunlit. Fondamentalmente, ragazzi, è un'app molto rilassante, io l'ho trovata, devo dire, ben fatta, e vi permette di tracciare effettivamente il sole. Questa è la giornata odierna, quindi quello che è successo oggi, come si è comportato il sole nella giornata del 12 marzo, e devo dire che l'applicazione intanto è graficamente molto carina, molto curata, con dei feedback di vibrazione che veramente vi restituiscono un senso di chill, di relax, e per chi è appassionato come me di medio e soprattutto anche di tramonti, vi sarà utilissimo scoprire tramite la geocalizzazione, tramite quest'app, qual è la prima luce del giorno, qual è l'ultima luce del giorno, e quindi andare a gestire quei momenti in cui avete la possibilità di scattare una bellissima foto al tramonto, di fare determinate attività, magari se siete dei professionisti, dei fotografi, dei registi, insomma volete creare delle scenografie che abbiano come protagonista il sole, e quindi effettivamente grazie a questa applicazione, oltre che essere molto rilassante, godibile sotto tutti i punti di vista, è molto utile per programmare le proprie giornate. Capita sempre ragazzi di dover dividere le spese con i propri amici, con i propri familiari, e Split è l'applicazione perfetta per fare in modo che tutti paghino la stessa cifra, non ci siano avanzi, disavanzi, debiti, crediti, benissimo, facciamo il conto che nel mio gruppo familiare, che siamo io, Emanuele, la mia ragazza Federica, dobbiamo bilanciare le spese che abbiamo mensilmente, ovviamente, io ho fatto delle uscite che per esempio si tratta del nuovo frigo elettrodomestico che ho comprato a 500 euro, sia per me che per lei, chiaramente perché è una spesa di casa, chiaramente, e poi Federica in questo caso è in debito con me di 250 euro. Federica poi salda il mio debito e qui posso andarlo a riportare in maniera tale che la nostra visione, il nostro bilancio familiare in questo caso sia esattamente a zero. Nessuno dei due deve dare soldi all'altro. E questa è una cosa molto interessante perché si può fare lo stesso anche sia con un'altra persona da aggiungere eventualmente dopo e sia per esempio con vari gruppi che si possono creare, per esempio gruppi di amici, gruppi di lavoro. Ed è una cosa molto interessante perché tutto viene segnato dell'app e non ci può sfuggire davvero niente. Serve per creare ordine anche dal punto di vista finanziario, per gestire al meglio le nostre finanze, che è un tema ricorrente in questa top app. Provatela. Se siete dei frequentatori come me, ragazzi di palestra, in questo periodo ci sto andando da qualche mese e sto tentando di essere sempre più frequente e ottimizzare i miei allenamenti, questa applicazione che si chiama Smart Gym fa sicuramente al caso vostro, soprattutto se possedete un Apple Watch perché è davvero un'applicazione ben fatta dal punto di vista degli allenamenti. Ho inserito per esempio giorno 1 una mia scheda di allenamento basata su un giorno e qui ci sono tutti gli esercizi che potete inserire direttamente dall'app. Ve li spiega molto bene, potete descrivere quelli che sono i singoli esercizi con le varie serie, le ripetizioni. Devo dire che è veramente fatta benissimo dal punto di vista grafico, soprattutto è molto utile tramite la sua estensione per Apple Watch perché potete lasciare tranquillamente lo smartphone nell'armadietto e avere con voi solo l'orologio senza fogli, senza carta, senza nulla. La vostra scheda in digitale. Come vedete ci sono delle animazioni per tutti gli esercizi che dovete fare nel caso in cui ve ne sfugga qualcuno, soprattutto se siete all'inizio della vostra scheda. E qui ci sono anche dei workout, degli allenamenti specifici proposti dall'intelligenza artificiale che potete fare sia in palestra, sia a casa, sia fuori, per perdere peso, per aumentare la parte alta del corpo, la parte bassa. Ragazzi, davvero, ci sono tantissime schede che potete seguire. Non c'è top-up che tenga senza un'applicazione di sfondi, di wallpaper. Quella di oggi si chiama Wolpy e renderà il nostro iPhone più godibile dal punto di vista estetico, più personalizzato, perché ragazzi abbiamo davvero tantissimi bei sfondi, ben fatti, scelti dall'editore, natura, sfondi astratti, macro, panorami, e potete selezionare tutto quello che volete in maniera molto semplice, andando a scaricare il singolo sfondo per la maggior parte delle volte in modo gratuito. Devo dire che questa è un'applicazione che non può mancare in un iPhone, non magari questa nello specifico, quindi Wolpy, che comunque funziona bene e vi consiglio di provare, anche perché ha degli sfondi anche astratti, come vedete, ben fatti, che possono interessarvi, ma soprattutto perché raccoglie tutto quanto in diverse categorie e vi propone anche, per esempio, dei quadranti per Apple Watch, quindi si collega dal punto di vista dei dispositivi Apple un po' a tutto quello che potete possedere, quindi non soltanto all'iPhone. Dalle ultime versioni di software iOS, iPhone è più personalizzabile grazie all'introduzione dei widget ormai qualche anno fa e Luigi è l'applicazione perfetta e secondo me meglio realizzata e più completa sull'Apple Store per inserire dei widget all'interno della nostra home screen, all'interno della nostra lock screen e anche sul nostro Apple Watch o anche creando un Live Wallpaper. Tutto questo lo potete fare con Ouija e con delle creazioni nuove, quindi dei nuovi widget che potete creare sulla base di quelli già inseriti all'interno dell'app da sviluppatori esterni ma anche di utenti che utilizzano l'applicazione stessa. potete anche crearne e importarne altri dalla vostra collezione personalizzabile o applicazioni esterne che potete scaricare e importare all'interno di questo grande contenitore. Come vedete ce ne sono tantissimi nella sezione esplora già presenti, già creati di diverse proporzioni di diversi gusti veramente ragazzi la personalizzazione è qui a livelli estremi quindi potete gestire tutto quello che vi pare tramite degli slot piccoli, medi e grandi in base a dove volete posizionare il widget e soprattutto in base alle informazioni che volete raccogliere all'interno di esso. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale sempre più video vedete online con i sottotitoli già inseriti per avere una fruizione più immediata per lo spettatore per intrattenerla ancora di più e per farlo restare attaccato sullo schermo e non passare alla storia successiva quando per esempio ci si trova su social come TikTok su Instagram e questo è quello che fa questa applicazione ragazzi ovvero andare ad elaborare il testo di un vostro video che caricherete sull'applicazione e andare a inserire i sottotitoli in maniera assolutamente automatica ragazzi questa app funziona benissimo non dovete fare null'altro che caricare il vostro video farà tutto quanto lei in maniera automatica e davvero l'ho trovata veramente ben fatta ci sono soltanto delle opzioni che potete gestire per esempio modificare una scritta se magari all'app è sfuggita qualcosa anche se in realtà non mi è sembrato nel senso è molto molto precisa potete decidere lo stile lo stile delle scritte chiaramente i colori gli stili corsivo grassetto più piccolo più grande ragazzi potete fare veramente tante tante belle cose e anche in questo caso lo fate con una grandissima personalizzazione l'ultima applicazione ragazzi che vi mostro in questo video si chiama Pluto TV forse già la conoscerete c'è da tantissimo tempo sull'Apple Store ma io non l'avevo mai provata e devo dire che mi sta sorprendendo praticamente è un raccoglitore di streaming on demand di film serie TV cartoni animati veramente ben fatto ovviamente non propone dei titoli di grandissimo pregio o di ultimissima e recentissima uscita perché parliamo ragazzi di un'applicazione completamente gratuita che vi consente di accedere a questi contenuti senza sborsare neanche un euro con una sorta di TV digitale online on demand in streaming direttamente dal vostro smartphone ci sono tantissime tantissimi film divisi per tipologia divisi per categoria e devo dire che ci sono delle cose davvero interessanti per esempio crimini e misteri nel canale Pluto crime ci sono tutti film e serie TV con lo stile e la tematica del crime di cui io sono molto appassionato quindi stare ore ore su questo canale ripeto non ci sono titoli di pregio di ultima uscita però è godibile il fatto che sia tutto gratuito lo rende ancora più appetibile reality show ovviamente motore sport per andare a interessarsi di tutto il mondo di quello che riguarda lo sport non ci saranno le partite di Champions League della serata però effettivamente cosa volere di più per un contenuto gratis funziona tutto perfettamente potete andare a interagire tranquillamente col player senza problemi ragazzi provatela perché potete trovare davvero tanta roba interessante assolutamente gratuita bene ragazzi in questo video abbiamo visto 10 applicazioni da non perdere da provare almeno una volta per i nostri iPhone un nuovo episodio delle top up che si va ad aggiungere alla playlist che trovate sul mio canale magari vi lascio in descrizione il link diretto così come in descrizione trovate il link alle applicazioni da provare sul vostro iPhone commentate qui sotto per farmi sapere cosa ne pare cosa ne pensate qual è la vostra opinione in merito commentate con le vostre applicazioni preferite che magari porterò in futuri episodi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto lasciate un like l'ho già detto però ve lo ripeto supportatemi ragazzi supportiamoci assieme e cresciamo assieme io con questo ho concluso noi ci becchiamo ad un prossimo video ciao